In occasione dei 53 anni dell'amato compagno di vita per Silvio Berlusconi, Silvia Toffannini ha fatto un regalo decisamente molto ma molto particolare. Come riporta il settimanale Khi, si tratta di una vettura vintage, ovvero una Mini Mook. L'auto è sportiva e scoperta, da guidare quindi soprattutto durante la bella stagione ormai imminente. L'uomo poi, con grande probabilità, la sfrutterà anche molto per caricare gli strumenti utili per praticare il suo sport del cuore, lo stand-up paddle. Un tipo di macchina in questione, il cui modello si basa su quello classico della Mini, è soprannominato spiaggina. Al momento sul mercato è presente la versione elettrica, quella donata per Lusconi da parte della compagna e dei figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, però è una versione più datata. Il costo di questo regalo, tanto apprezzato dal festeggiato? Secondo diversi siti di auto usate, la versione della Mini Mook in questione avrebbe un prezzo assolutamente esorbitante. Si parla infatti di circa 20.000 euro. La versione elettrica della macchina arriverebbe invece a 40.000 euro. Insomma, non si tratta di un regalo proprio alla portata di tutti o da fare a cuor leggero. Pier Silvio sembra aver davvero gradito il dono. Il settimanale Kilo ha infatti immortalato mentre guida la vettura scherzando e ridendo con un sorriso a 32 denti stampato sul suo bel volto. Grazie a tutti!